Mi chiamo Davide Badabieri e faccio parte del gruppo del Talismano. Se che so già, ognuno ha il suo destino e il nostro ormai finisce qua. Valide è il che verrai, apprenderei che ora l'importante è andarsene, cambiare direzione e farsi una ragione. Sai che quello che non sei non diventerai, è fine della storia e se non hai memoria, ora lo sai, non mi troverai, cambio direzione. Grazie. 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 Grazie.